Evelyn, partita di Coppa, purtroppo il Parma ha perso contro il Sassuolo, ma la tua prestazione è stata ottima. Ci racconti la partita dal tuo punto di vista? Allora, prestazione buona da parte di tutte, la squadra, sono molto orgogliosa. Abbiamo lottato fino all'ultimo e se non fosse stato per il rigore, sicuramente portavamo a casa un pareggio, magari un gol arrivava. Dispiace molto, soprattutto il gol, volevo finire dopo un rientro con l'infortunio con un clean sheet, però ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto un buon lavoro di squadra. Hai accennato il discorso dei rigori, sono stati due i rigori dati in questa partita, uno l'hai parato e l'altro invece, purtroppo all'ultimissimo minuto, è arrivato il gol del Sassuolo. Che rigori sono stati dal tuo punto di vista? Sei riuscita a vederli bene? Sì, sicuramente. Il primo che il secondo, la mia compagna non se l'aspettava, non è andata in contrasto, semplicemente li ha calciato addosso, era un metro, quindi sicuramente non era il rigore. E nella seconda chance non se la sono fatta scappare e l'hanno messa dentro. Rientro per te, dopo l'infortunio, quali sono state le tue sensazioni in campo? Non vedevo l'ora di tornare, mi hanno operato il 30 maggio alla spalla e sono stati dei mesi difficili, perché stare via dal campo lo soffro, e quindi rientrare per me è un po' tornare a vivere. Ciao Evelyn, complimenti. Esordio con rigore parato, direi che di meglio non si può chiedere. Sì, di meglio non si può chiedere, però tendo sempre a puntare in alto e quello che rimane è il secondo rigore, quindi c'è tanto lavoro ancora da fare, soprattutto per finalizzare e portare a casa il risultato. Non solo tanto possesso, tanto possesso, ma dobbiamo arrivare in porta. Che cosa hai pensato quando sei riuscita a parare il primo rigore? Mi interessa sempre, è sempre molto curioso capire come si riesce a parare un rigore. Sono rimasta molto lucida, non ho pensato assolutamente a niente, semplicemente ho cercato di leggere come vanno a calciare e ho intuito che andava a destra e ci sono andata. Complimenti. Grazie.